Buonasera e grazie. Siamo il Faith Gospel Choir. Come è stato detto all'inizio, veniamo da paesi diversi e anche da esperienze personali e musicali diverse. Quello che ci unisce in questo momento è soprattutto la fede. Infatti abbiamo scelto come nome Faith, che in inglese significa fede. Poi ci unisce ovviamente la passione per il canto gospel e anche una grande amicizia che è nata in questi anni ed è cresciuta cantando insieme. Il gospel, come ci insegna il nostro maestro Nimaia Brown, non è soltanto un genere musicale, ma racconta la storia di un popolo che ha vissuto la schiavitù e la sofferenza e a un certo punto ha incontrato il Signore e nel Signore e nella fede ha trovato la speranza e la sua liberazione. Gospel significa Vangelo e per noi cantare il gospel significa portare nel canto la nostra vita, il nostro bisogno di Dio e trasmettere agli altri la gioia del suo amore.